ciao a tutti da out of bit e da Tony Saufa oggi andiamo a recensire un'altra rom per il nostro lg g2 e precisamente andiamo a vedere la bruce 27 28 rom dopo aver visto la recensione del kernel sempre di bruce ho deciso visto che il kernel è veramente ottimo di provare la rom che include ovviamente già già il kernel di bruce prima di tutto vi dico che è un porti scusate un porting è praticamente una rom stock per lg g2 non ha nessun tipo di aggiunta è abbastanza fluida cioè nel senso è molto fluida come tutte le rom su firmware g2 riscontro sempre comunque un po di cosiddetta laggaria c'è qualche lag nello scrolling della pagina dei widget ma questa è una cosa comune su tutti ho provato anche a sostituirlo con con un launcher apex non nel caso specifico e comunque continua sempre un po a laggare quindi diciamo che è un problema di tutti allora ritorniamo alla rom andiamo a vedere un attimino le caratteristiche di questa rom saranno molto veloci perché è molto stock quindi potete riguardare una delle mie recensioni sul sul firmware di lg g2 quindi sulla rom stock e vediamo un attimino che cosa che cosa ha cambiato bruce allora in oggi inizierò a fare delle recensioni un po diverse nel senso che siccome questa è praticamente come lo sviluppatore l'ha fatto quindi non ho fatto nessuna modifica e ovviamente ognuno ha le proprie modifiche da fare su una rom che ne so ridurre la nav bar la status bar mettere qualche modulo exposed oppure può essere anche la tastiera che in questo caso abbiamo la tastiera del del g2 io preferisco la tastiera del g3 o la qualche qualunque altro tipo di tastiera ho deciso che farò una recensione una parte della recensione adesso quindi ho testato tutta oggi la rom non c'è stato nessun tipo di problema proprio nessuno nessun force closing nessun riavvio improvviso e veramente sembra essere estremamente estremamente fluida quindi vi dico un ottima rom ok andiamo a vedere un attimino le caratteristiche prima di vedere le caratteristiche vorrei ringraziare kenshiro cioè voi non sapete che io conosco kenshiro cioè kenshiro è amico mio e a proposito di kenshiro dedico questa video recensione della bruce a kenshiro perché kenshiro perché bruce mi sa un po di bruce lee bruce lee mi sa di arti marziali kenshiro uguale arti marziali quindi kenshiro ti dedico questa rom e vi volevo segnalare questo gruppo che è praticamente fatto che il gruppo su google plus che nel guerriero ideato dove il proprietario è kenshiro cioè l'amico mio kenshiro cioè che poi kenshiro è giapponese tailandese che cazzo è no è pugliese che è pugliese amici è pugliese ok quindi vi invito a iscrivervi a questo gruppo su google plus kenshiro fa parte anche del nostro forum fresco fresco a proposito del nostro forum andiamo un attimino a vedere le caratteristiche di della nostra rom ok che andiamo a recensire la vediamo in modo molto molto veloce praticamente sempre le solite cose di particolare a il no code funzionante è stata ripulita un po di tutte le app di dlg lo file manager stock è stato sostituito con es file explorer c'è il dsp manager che dovrei esatto questo dove possiamo andare a settare un attimino il comparto suono del telefono non abbiamo lo split view che c'è nelle nelle altre rom quindi diciamo è molto quando vi dicevo che è molto stock e molto stock ovviamente all'interno c'è il kernel il bruce kernel la fotocamera è stata modificata con la xdabeb 3.1.0 quindi avremo i video in slow motion e il 4k a livello di registrazione c'è il tema della flex il meteo della flex ok andiamo a vedere un attimino la rom io in questo caso ho messo il tema del tema del tema del g2 però possiamo modificarlo tranquillamente andiamo qui in tema e mettiamo quello della flex così andiamo a vedere come vedete è cambiato il tema però non cambia la come posso dire la la ui rimane quella diciamo semplicemente a livello proprio macro cambia quindi che cosa andiamo a vedere andiamo a vedere un attimino è molto fluida quindi devo dire che è molto fluida veramente veloce vi volevo far vedere quali sono le app che ci sono una volta appena installata alla rom praticamente solo questo ho fatto degli screen le applicazioni sono queste quindi molto ridotte ridotte all'osso ovviamente se volete potete scaricarvi gli aggiornamenti gli aggiornamenti a parte quindi in tutta in tutta tranquillità in particolare non c'è nulla se non una un firmware stock 100% tranne la fotocamera e queste variazioni che abbiamo visto non vi aspettate il porting di che ne so la possibilità di combinare i tasti a sferamento anteriore non c'è la possibilità di come posso dire l'immersive mode cioè quello di nascondere la nav bar e softgain determinate app non c'è lo sfondo il launcher ho detto adesso vi faccio vedere verifichiamo anche la fluidità con l'apex launcher no vediamo facciamo una prova ok vediamo un attimino se vedete comunque comunque lag quindi le uniche rom che hanno un come posso dire dei lag più bassi sono i porting del g3 cioè io ho notato questo tutto il resto invece comunque a a questi problemi che io chiamo laggaria ok andiamo a vedere andiamo a rimettere il nostro la nostra home e ritorniamo nelle impostazioni stavo dicendo display l'abbiamo visto e come lo stock blocco schermo c'è il no cod funzionante quindi e il resto è rimasto uguale l'animazione meteo l'abbiamo vista se la rivediamo vedete questa qui quindi è funzionante ripeto l'ho utilizzata tutta questa giornata l'impressione è stata molto molto positiva quindi credo che mi darà la voglio testare da un punto di vista di batteria sento molte persone che sono entusiaste vedremo un attimino se questo entusiasmo sarà confermato io sono sempre molto molto realista nel mail molto realista in base al mio modo di utilizzare il telefono non c'è altro se non le classiche le classiche impostazioni che abbiamo quindi ve sto facendo vedere in modo veloce scusatemi quindi nulla di che come vi dicevo io voglio sostituire la tastiera quindi ovviamente se poi vi faccio vedere la recensione con la tastiera del g3 qualcuno potrebbe pensare che già inclusa nella nella rom così non è quindi vi faccio vedere anche qui ad esempio non ha non ha personalizzato nemmeno il nome della rom cioè veramente Bruce è essenziale diciamo che è essenziale proprio essenzialissimo nella però questo non vuol dire che la rom non sia come posso dire molto soddisfacente la fotocamera l'andiamo a vedere ovviamente abbiamo tutte le caratteristiche della xdabeb se la conoscete però volevo vedere un attimino allora vediamo prima di tutto la modalità video c'è la full hd no mi sa che manca il 4k 4k l'ultra hd mi sa che manca vabbè forse mi sbaglierò però mi sa che manca l'ultra hd allora andiamo a vedere no qui se c'è infatti no secondo me c'è che la fotocamera se non sbaglio la xdabeb dovrebbe avere anche la messa a fuoco differente quindi secondo me c'è qualcosa che non che non va come vedete comunque le foto sono 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 buone no volevo un attimino controllare velocemente la foto come al solito quando devo trovare qualcosa non la trovo mai mentre sto facendo le recensioni mai cazzo no no è questa ma allora mi sarò sbagliato io però comunque forse mi confondo con il porting della della fotocamera del g pro 2 e il g3 perdonatemi se non sono precisissimo ragazzi ma tra 12.000 porting 500.000 rom che provo è ovvio che ogni tanto non ci capisco una mazza come si suol dire niente allora io rifarò la parte finale di questa video recensione tra penso tre quattro giorni così almeno ho modo di testarla per bene e darvi un giudizio sulla rom ripeto al momento per questa prima giornata è fenomenale quindi al momento è positivo ci vediamo tra qualche giorno e mi raccomando ciao che insciro magne da brusquet allora ragazzi parte finale del video con le conclusioni praticamente più che due tre giorni l'ho testata per una settimana intera la rom è praticamente perfetta credo di non aver mai provato in un anno una rom così stabile non ho mai avuto un force closing mai un riavvio quindi devo dire che è la migliore per me ovviamente la migliore rom per g2 su firmware g2 cioè nel senso il firmware originale g2 ottimizzato è veramente eccezionale come potete vedere l'ho modificata come vi avevo detto praticamente ho ridotto i dpi ho messo g2 xbox vi faccio vedere un attimino se può essere se può interessarvi o se non ve ne frega minimamente quali sono i moduli x post che ho usato allora andiamo subito andiamo subito al solo la rom è eccezionale fluida ho salvato alcuni screen di il consumo della batteria il consumo della batteria è al top tra le rom che io ho testato al top significa che a prescindere da quello che postano altre persone 6-7 ore 5 ore 12 ore di schermo che secondo me sono tutte cazzate o cazza o meglio in base al mio consumo io uso il telefono lo uso tanto quindi il mio standard è notevolmente diverso il mio standard qual è? fino a 3 ore la batteria è assolutamente nella norma ma è comunque bassa ok medio bassa dalle 3 ore alle 3 ore e mezza è inizia ad essere medio alta oltre alle 3 ore e mezza per me è alta e devo dire che questa rom per me è alta vedete in questo caso in questa giornata non guardate il wifi perché comunque avevo attivato la scansione del wifi o comunque il monitoraggio del wifi non ricordo che cazzo era e quindi mi segna come se fossi sempre stato collegato al wifi andiamo qui praticamente in questa giornata ho fatto 22 ore e mezza con quasi 4 ore di schermo 3 ore e 50 utilizzo principalmente 3G quindi non ci fissiamo il mio utilizzo normale è questo questa è un'altra giornata anche qui non vi fate illudere dalla barra del wifi perché è falsato purtroppo è stata una mia dimenticazza non ci ho fatto caso in questo caso un giorno precisamente 3 ore e mezza di display poi andiamo avanti anche in quest'altro caso il wifi è attivo ma non è indicativo praticamente ho fatto un giorno e 4 ore con 2 ore e mezza di telefono scusatemi 2 minuti e mezza di telefono schermo 4 ore e mezza e comunque avevo qui in questo caso vediamo un attimino ancora il 12% di autonomia quindi sarei potuto arrivare anche a 5 ore dipende comunque questo semplicemente per dimostrarvi che la ROM è assolutamente perfetta cioè non non perde un colpo cioè veramente ragazzi bella consiglio è per me assolutamente promossa a questo punto non mi resta che salutarvi Kenshiro vedi ti faccio vedere Berserk Berserk è questo è questo tipo cattivissimo lo guardi è proprio cattivo Berserk che ti consiglio di guardare allora ragazzi vi saluto e adesso non so che cazzo flasherò dopo credo che mi scaricherò la Pardus HD 3.1 e la flasherò credo di avervi fatto vedere tutto ah una cosa prima di chiudere nella prima parte del video vi dicevo che comunque la laggaria c'è come ho risolto io purtroppo mi ero fissato nel trovare una ROM fluida con il launcher stock quindi non mi andava di mettere sia Apex o Nova per effettivamente è stato un po' stupito da parte mia ho acquistato Nova Prime e devo dire che il telefono è un altro telefono vi faccio vedere soltanto la fluidità delle schermate delle applicazioni e della pagina dei widget è assolutamente fluidissima quindi era proprio un discorso di launcher risolto così ok ragazzi vi saluto alla prossima video recensione se avete dei suggerimenti sul testare qualche ROM o qualche kernel fatemi sapere ciao ragazzi fate i bravi